OBS random si è scollegato, scusate completamente random tempo che ho fatto stop e start si è ripreso la linea da pub va bene misteri dell'OBS non facciamoci troppe domande giusto? chiedo solo cosa cavolo abbia visto vabbè, entro già nelle domande oh c'è un altro OBS magic oh, mi sa che di mettere la mira non si può andare giù è chiuso per ora qualcosa ho preso quindi mi va bene però mi interessa un po' troppia ok si passa, si passa di qua medikit che me lo prendo ok porca vacca, non ho saltato per tempo io ho saltato invece ma magic tu non spari più dobbiamo guardare tutto sotto però prima di no ma cosa c'era qualcosa me la sono vista un po' brutta un altro quadretto giallo c'è un medikit pieno di simpaticoni no sono spawnati tutti di nuovo coincidenti ok meno 2 meno 3 guarda che state vicini così vi colpisco tutti insieme vedi così ah gli prendo i proiettili me l'ho solo vista brutta wow via via no ah funk anche a te no ok accidenti se cominci a rimanere spesso qua c'è un altro ah no no devo andare a riprendere quei due là devo andare a riprendere quei due là devo andare a riprendere quei due là anche erano in alto a destra vai via a sconderti ve lo vedo come lo piglio semplice sembra allora ne ho andato solo a prendermi i due cubetti lì che erano su di qua uno no tu non salti oh sei uno l'altro era uccidendo questa qui guarda di là era chiuso è vero io potevo o salire o potevo andare a sinistra sembrava aperto voglio vedere se sembrava solo o non sembra aperto proprio è aperto perverso il boss era palese che c'era qualcosa pensavo ci fosse un po' di più no sempre è meglio di nuovo no? però lì c'è un altro medicamento pieno pieno sa che qua c'è un coso qualcosa di grosso eh sì oh aia 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 cazzola che male ci riprovo ci riprovo e vabbè ma anche se hai vitto non li prendi li prendi aia ma dai ma dai mi prende lo stesso cazzone ma guardalo bastardo no mi sa che il boss mi apre ma dai ma dai no è freddo no cazzolo no ognuno aia aia cazzolo Però forse ho capito Sono riuscito a farle abbastanza male Senza che mi colpisse Quanti team medici Ho tutto Perfetto Forse adesso No ma perché ho chiamato un amicone? Sì, non gli avevano chiamato gli amiconi Maledetto Maledetto Non gli avevano chiamato gli amiconi Prima, adesso sì Sì, non gli avevano chiamato gli amicone Sì, non gli avevano chiamato gli amicone Sì, non gli avevano chiamato gli amicone Ma che forse... Sì, non gli avevano chiamato gli amiconi Sì, non gli avevano chiamato gli amiconi Aiutanti di Papo Natale Meno uno Non gli avevano chiamato gli amicone Sì, non gli avevano chiamato gli amicone Sì, non gli aveva chiamato gli amici Ah, dammi Sì, non gli avevo chiamato gli amici Mi deve' chiamato l'esercizzo Ma guardalo! Ha cominciato già a fare tre? Ha anche due colpi di quella? Ok Vai che è quasi morto Aia, me lo sono preso in faccia No, però un colpo BOOM Si cristallizza e si rompe E' sanguine Uno... poi mi ha lasciato tre cubetti gialli E' un qualcosa che... Una pistola Swap guns Super cannone Wow Super cannone Wow Spero attivi... Sarà un teletrasporto? Spero di sì No, non credo che sia un teletrasporto Un teletrasporto Un teletrasporto Un teletrasporto Un teletrasporto Un teletrasporto Oh, ho attivato Uno dei quattro Angoli E sta pulsando Una cosa abbastanza inquietante Una cosa abbastanza inquietante Andiamo via Al buio Anche C'è un teletrasporto Poiché Niente un altro melee la mia ah devo farlo veramente tutto al buio? che stronzi devo rimanere senza carburante bravo un po' di luce gioco per favore eh sì l'inizio è brutta brutta l'inizio quanto c'è la luce mi accontengo la scala al più darti possibilmente ah sono finito qua sopra oh adesso posso... oh c'ho l'Uber scorciatoio adesso si finalmente c'ho la scorcia ma ora che ho tre frammenti io mi teletrasporto qui me ne servivano quattro ora che ci penso allora qua c'è una cosa che non posso ancora usare perché me ne serve uno quattro il quarto dov'è? il quarto dov'è? mi dice che è qua sembra credo comincio ad avere i miei dubbi ma sì in che diavolo di sistema sei andato a piantarti? nessuna cosa nascosta qua? no, 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 no ok ora che so che ci sono le cose nasc... le pedane nascoste ma che ci sono anche qua e va a vedere che per magia mi serve proprio una pedana nascosta vediamo niente niente oh magari guarda un po' che magari no 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 facciamo solo fuori mi rompi balle mi c'entrassi sarebbe molto più facile e veloce se vi stavate pensando quello con corda anch'io oh ma che mira del cazzo che c'è anche tu un secondo schermo un secondo schermo, sì un secondo schermo un secondo schermo un secondo schermo che lo fai vedere? no, 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 no non è duplicato sono estesi aspetta ok perché allora qua dove ho la mia mano è dove è appoggiata la webcam ed è il monitor secondario in questo momento sul monitor secondario c'ho chrome obs hank bot e un ping per tenere sott'occhio come va la cosa e lì è quello secondario sul primario che invece è qua qua di la parte qua tutto il gioco effettivamente così almeno vedo chat e il gioco tutto insieme anche ed effettivamente è comodo anche se anche senza usare twitch o stream o robe varie è comunque comodo e io continuo a non capire dove cavolo devo andare a 650 cd della città, non è già male L'ho massacrato con un colpo Proprio sto tornando indietro di nuovo la stessa identica cosa, lo facciamo così Ok, voglio andare a vedere cosa è successo lì Sai che fa? Mi sta dando abbastanza sui nervi Lo sto sentendo solo, oye, il piano mi resta Cos'è? Un momento che ce la posso capire se Vabbè, magia Allora Quanti cubetti c'ho? Due, quarto Quindi non posso potenziare nulla Ah, si è alzato uno Così, di pilastri Eh, quindi non so se basta alzare i pilastri o devo cercare anche quello Ma dobbiamo farlo alzare i pilastri? Dove andiamo? Su, giù o destra? Andiamo a destra Così Così Ehi, toio Così Mio Non ho la minima idea di dove sto andando Ma sto andando Caspio Son finito Entriamo Molto più luminoso rispetto alla foresta di prima Ah, mi dice dove è il boss Inculato, ovviamente In un vicolo cieco Tipo E che mi pare anche giù Sì Le rani ninja Ninja? Ma non l'ho mancato Fisato che sono l'ultima che attacca di fiume Interessante Buona fortuna Buona fortuna Oh, no Non così Di qua Musica sempre poco inquietante Eh, se sei arrivato Allora L'accensore Basta Il fiammello ha paura di attaccarla corpo a corpo. Un altro ascensore. Ah, sono dall'altra parte della roba, ma basta così. Ok, ha meritato comunque il giro. Ho un teletrasporto che va sempre bene. Ma posso andare su, giù non posso. Vediamo cosa c'è. Scende tantissimo. Ma tanto tanto. Ho scoperto che tra parentesi uno dei creatori di questo gioco faceva proprio una malattia del genere. Per quello che ogni tanto si mette a tossire sangue. Quello che pativa proprio uno dei creatori. E' l'ideatore. Un ascensore qua, ma... ... Vediamo se c'è altro. E non sembra che ci... Al momento, almeno... Va bene. Andiamo giù. Un altro po' di 130 km. Ogni tanto lo fa. Oh! Esplodono pure, ma che simp... Infatti queste merde! Ho come la grossa impressione che se gli sto vicino mi fa male. Non so perché... Istinto? Non so. Mi hai detto che c'è un altro po' di calcio. Le dico è siclio! Un altro po' di calcio! Ci sono due! Un altro po' di calcio! Scusate! Un altro po' di calcio! Dio adesso! Ok, qua c'è una bomba di quelle che cammina. Ok, giù a sinistra. Laboratorio strano. E per strano sono ancora stato gentile. Probabilmente. Oh, mi è andato un altro. Uh, posso potenziare qualcosa. Tu esplodi da un'altra parte. Grazie. E tu? Medico in vista su. Questa mi sa che c'è un quadretto, un pezzettino di quadretto. Epp. Fantastico. Nooo. Via. Non spawna più nulla. Mi fa male sto... ...compotto, sembra. Mi può lanciare un cannon. Quello. Oh. Au. La prima metà. Immagino che quello dell'altro lato faccia la... ...l'altra metà, l'altra parte... ...del... ...del ponticiello. Che ovviamente è guardata a vista da degli sponfonsi. Altro pezzo lì. ... Porca miseria. L'ho visto qua. Ok. Due, tre, quattro. Non poteva arrivare da poi. Sì. Io vorrei che ci arrivo, eh. Se vuoi. Au. Au. Medikit. Oh, porca miseria. Vedo già grande casino. Mi porterà? Ah, son qua sotto. Ok. Non ho la minima idea di dove sono. Sì. Più o meno sì. Sì. Però questo ascensore non ho... Dove mi porterà? Altri posti magici. Ho una porta che non si apre. Fammi immaginare. Ah, lei c'è. Si è chiusa subito dopo e la cosa non mi piace di niente. Sì. Aia. Siete finito? Oh! No. Che devi... No. Prima voglio esplorare. Poi dopo. Per una chiave. Quadretto. Però non è nulla. Però è in questa porta? Ascensore che mi porta? Su. Tanto. Un attimo Perché quello l'avevo già visto Ma non sapevo come arrivarci Adesso sì Come La posizione E se no Prova Ancora Cosa Cadaveri nell'acqua Io non ci posso entrare Perché ne vuole tre Oh c'è un tele... No 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 Accendi Questo Poi dopo Andiamo nella porta Prima ti ritrasporto Poi più di ascensori C'è però sono finito Sì E qua no Allora l'unica è qua Ok 4 di cargo Metto un tank Gli altri 2 di... Quel volendo puoi farlo Non hai poi cargo Per Eventuale Prova Ma lo puoi fare Tranquillamente Volendo puoi anche solo Provare a metterlo E poi se non ti piace Cambiare di nuovo Costa niente Tanto i moduli Cambiare Venderli Facciocare Quindi Prova tutto quello che vuoi Come moduli Come navi No Costa già un pochino Ma tu guarda Che è nascostissimo Andiamo Andiamo Oh L'ho mancato Oh miseria Oh per carità Peggio ancora Ok Qualc'altro tasto Va dietro O no Troppo Cobetti gialle Per le abilità E vai Ma siete spawnati Adesso andiamo giù Qua c'è un po' Cosa da attivare E lo attiviamo Ma ci andiamo dopo Qua si attiverà il fonticello Qua invece Invece Oh Aspetta Quella da qua E dipende Come hai Faccio Aia Aspetta eh È arrivato Che se lo metti In quello Nello slot Da due Sì Si dà qualcosina In più Sì Ma io Lo giro Solo per Un pochetto Coloro prima Beh mi fate passare Se proprio Devo combattere I veterani ninja Mi tirano le stelline Conta che sei anche più pesante Quindi potresti saltare meno Però all'inizio si Rimane comodo E utile Ok E adesso Fatto qui Adesso Spero Non sia Giallo Allora Destra Au Un altro ascensore Non c'è Abbastanza Faccio Tutto allegro Tutto luminoso Adesso ci sono già i funghi Strani Proprio Strani Dove c***o Io sono finta What? Sono le rane che tirano bombe Strane RANDOM TIME Aia RANDOM TIME Ecco quasi Un altro quadretto Quadretto abilità Chiamiamoli così Guardate Non mi fa più tornare da rovate Quando prendi il Abendini Il sabatoio più grande Non ti fa il pieno E guarda se poi ci arrivi Non dovrai potenziare Il frame chief drive Che ti fa Fare salti più E se no può essere Che non puoi più tornare Le rovate Può essere Un altro Non è finita questa zona Ah mi ha fatto cadere N2 Acqua Nooo Va bene Avevo visto che ero mezzo morto Noi Cosa Cosa Mra Mra Ok, ok. Ok, ok. E' un'altra video. Hoppala! faccio un me credo che era abbastanza vanno giù cura, cura, cura la stella si è fermata ok, ma qua c'è un altro dammi luci ok, non ho pensavo fosse niente questo è un ninja è lì, lo attiva che c'era e dove cappero sono? no sono finito in un posto random altro? certo che almeno a nuotare no posso pompare due abilità è dopo cacazzo fantastico ho come l'impressione che ci è passato ho come l'impressione che ci passerò non è passato però è sopra la nif sì posso? posso dovevo anzi qua invece qua boba 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 piccia 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 è di città questo va sempre bene non ci arrivo non ci arrivo magari ci posso di qua ho sentito di no posso ho spinto in acqua percorso trampola la lei è una classe più alta e riesco ad arrivare davanti oh mio dio che casino cose più costose mettendo per il copro che vorrei comprarmi ma non ti preoccupare tutte le cose che puoi comprare navi escluse le puoi vendere allo stesso prezzo quindi spendi solo non morire solo dopo non ti preoccupare per il prezzo è un trucchetto per ottenere di nuovo il 100% di credited di tutti i outfitting che usi quindi non ti preoccupare per quello ascolta me ok ok o cosa ci sarebbe eschietnito spero che il gioco se ne renda conto che io non ci torno mai più qua perché non mi ricordo mai più la strada spero che se ne renda conto per dire eh perché è già passata il po' dall'ultimo trasporto che ho trovato se ne vuole tutti e quattro non ci sono torniamo indietro devo scendere dall'altra l'altra l'altra si poteva scendere non di qua ma dopo dall'altro capo di questo corpo non di qua ma c'è una delle scale che andava Adesso voglio andare giù Ma ci posso cadere? Sì, allora sì, ma così Città 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 Andiamo a prendere un potenziamento L'interdetto è esploso? Oh, qualcuno comincia allora Qua c'era un'ipotenzia E anche Questo Questo Dovrebbe darmi una Un medikit Adesso io me ne porto 5 di medikit Visto che quanto pare ne faccio andare Quantità che sono industriali Ok adesso posso portare 5 Wow Ok Mi sa che per stasera finisco qua, sapete? Quindi Andiamo a casa Vediamo la luce Vediamoci a letto E io con questa cagata qua Faccio che salutarvi Quindi Grazie per la compagnia E ci vediamo alla prossima O Mi vedete alla prossima Io massimo li leggo Alla prossima Ciao Ciao